a riprenderci le piazze e a darci degli obiettivi. L'antifascismo e l'antifascismo si può fare in molti modi e in molti luoghi. Si può fare nelle scuole, esercitando la memoria storica. Si può fare nei quartieri popolari, creando legami di solidarietà, combattendo la guerra tra poveri, sui posti di lavoro. Si può fare in città, rivendicando il diritto a muoversi liberamente la sera, collettivamente, per difendersi dalle aggressioni. Grazie.